Due cose sulla Roma che dobbiamo chiedere. La prima, ieri hai detto che Zagnolo deve crescere di testa. Che cosa intendevi dire? Ho detto che per essere un grande giocatore bisogna crescere in tutto e per tutto, sia in campo che fuori. Perciò se strumentalizzano tutto quello che dico è meglio che non parlano. È normale che noi romanisti speriamo che possa arrivare in Champions. Un traguardo minimo penso, no? Anche se il campionato italiano è molto difficile perché arrivare tra le prime quattro in questo momento non è facile. I romanisti sperano che torni però. Devi tornare soprattutto alla Roma. Sì, lunedì torno. Il mondiale senza l'Italia? È come Roma senza il Colosseo.